Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video, oggi andremo a montare su una strada di duro del mio fratello la protezione qui della catena e i tamponi sia posteriori che anteriori di Marche 3D Marchetti Alfiero produce tutti questi prodotti fatti bene bene semplici da montare, andiamo a vedere com'è il montaggio semplicissimo perno, paracatena, corona si, per esempio il montaggio semplicissimo così, poi da quest'altro lato, tanto voi non vedete ma è semplice, ci sapete da l'interno fino a battuta se li faccio questi lavori potete fare chiunque, dato autobloccante si stringe e poi si mette il tappino con il logo Marche 3D si stringe tutto e il lavoro la parte posteriore è già finita ora poi si stringerà tutti i radi e ora si va a fare il solito lavoro, naturalmente non c'è il paracatena, il paracorona nella parte anteriore qui me l'ho già avvantaggiato l'ho già smontato semplicissimo, si svita poi si inserisce questo di qua si riavvisa il tampone che avevo levato auto dato autobloccante adesso e il tappino sempre con il logo ora si procede può stringere il tutto e poi vi faccio vedere il lavoro finito niente lavoro semplice come sempre se non non l'avrei fatto e se volete contattare Alfiero vi lascio vi faccio vedere il bigliettino poi vi mandano sempre insieme anche portati a vino da due lati un attimo è apro la bustina e questa volta non me l'ero preparata ecco qua il bigliettino marca 3D progettazione stampa 3D consulenza questa parola sold work sarà lo potete contattare su Instagram Facebook e Whatsapp persona molto in gamba seria e niente contattatelo poi se vi è armato il video mettete un bel mi piace il fratello ride segnatevi al canale a presto vai vai